Partiamo dal gol che ha dato la soddisfazione a te e anche tutta la squadra che ha rinvento la Michele contro una squadra di serie. Sì, è stato importante vincere questa Michele, soprattutto è stata una partita importante per mettere minuti nelle gambe e stiamo continuando a prepararci per il 20 agosto. Come sta lavorando il Verona? Perché paradossalmente nella fatica è uscita ancora una squadra più forte. Sì, noi abbiamo fatto la nostra partita, comunque sappiamo che ci sono i carichi dei lavori, è normale avere un po' le gambe imballate, magari è normale anche far fatica ad arrivare al novantesimo, però è il percorso che bisogna fare, continuare a allenarsi e arrivare il più preparati possibile. Partiamo anche dal tuo atteggiamento perché sei entrato in campo con una grinta incredibile, ti abbiamo visto aggredire tutti i palloni e su un tuo intervento è arrivato anche il gol sul tuo pallone recuperato. Sì, io cerco di dare il mio contributo alla squadra e quando entro cerco di dare il massimo, poi come va va. Poi in ultimo punto, adesso c'è l'ultimo amichevole con il Newcastle, poi si comincia praticamente. Sì, è una bella amichevole, ci aspetta, è una bella esperienza comunque andare a giocare là e continueremo a lavorare anche questa settimana per poi prepararci alla settimana che ci porta all'inizio del campionato.